ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti e benvenute in un nuovo episodio allora ragazzi questo sarà un video un po diverso dal solito perché normalmente lo sapete io parlo di progetti ma non potevo non fare un video su questa nuova coin che ha scoperto il nostro samu bit ciao samu grandissimi vi ringrazio per essere ospiti naturalmente pubblicherò il mio video anche sul mio canale grandi esatto allora ragazzi io non posso lasciare samu due secondi che in poche parole mi diventa una balena apri un gruppo telegramma dove la gente sta letteralmente impazzendo fuori di testa e perché samu raccontaci un pochino cosa è successo raccontaci un pochino meglio la storia di questa coin e niente iniziamo do la parola a te ok allora innanzitutto sì una precisazione gruppo telegram non è aperto qualcuno lo so comunque lo trovate ora mi ricordano ma della coin mortality sky ok perché oggi ho dormito veramente due ore scusate per l'emozione e per cui dico una cosa al volo poi per quanto riguarda il gruppo telegram ragazzi ve lo ve lo linko qui sotto ok allora io ho trovato questa coin per caso quando avevo una cap di 500 dollari che cosa ho fatto sono andato a analizzare con un altro esperto il contratto il contratto sembrava buono sembrava avere una piccola falla l'ho deciso di metterci 150 dollari ok market cap di 500 dollari all'epoca e oggi siamo a 300 mila dollari quindi una roba direi pazzesca una locura adesso il mio wallet di 30 2000 dollari e 500 di mortality quindi stiamo viaggiando che picco che picco ha avuto nel wallet nel wallet non saprei neanche dirvi la cifra che ha fatto però potete immaginare market cap di 500 dollari qua segnava ora è 300 mila naturalmente la cosa più importante a guardare è la liquidità ok quindi io sono balena sì ne ho 32 mila però la liquidità deve coprire ok sempre diciamo questo succede su tutte le coin quindi oggi siamo più 152 per cento da ieri quindi continuiamo il nostro trend con minimi crescenti se andate a guardare quindi sembra andare bene però attenzione potrebbe essere anche uno scam che io non lo so non sono io che ho creato il progetto quindi io vi avverto è molto rischioso però sappiamo anche come dogecoin era rischioso e dove è arrivato per cui ormai sono in ballo e ballo mi raccomando sempre attenti a questa cosa nel senso non fatevi prendere dall'euforia che mettete capitali assurdi sempre con i piedi per terra no vorrei mostrarvi anche una cosa del mio wallet per dirvi oggi ho fatto un tentativo su ecco lunarsky ok ci ho messo tipo 50 dollari ora sono 29 era uno scam ok ragazzi io ci provo è ogni tanto ci provo e mi va bene poi cioè tre coin e niente ora andiamo a vederci un po il contratto come vedete questo è mortality sky ok questo il contratto diciamo la falla che ci poteva essere che sembro che essere risolta in questo momento abbiamo veramente contattato degli esperti era questa qua il contratto è bloccato per sette giorni che cosa vuol dire che il proprietario può dire ok lo sblocco e da qui a sette giorni mi prende la liquidità però se lo sblocca noi andiamo a vedere che questa cosa perché il contratto si aggiorna di conseguenza lui non gli conviene perché stanno arrivando tanti capitali su questa coin per cui vedremo un po come evolverà tra l'altro io sto investendo ok mi mortality i miei diciamo token per sostenere tantissime cause una tra queste diciamo anche il cane di saveria che romeo c'è il mio cagnolino che ha avuto un sacco di problemi ultimamente è un pochino malato e sam mi ha inviato un pochino di token di mortality e insomma vediamo come va sì ora mi è caduta la luce per cui o resto così vediamo va bene stiamo così dai e di conseguenza allora andiamo a dare il contratto allora abbiamo detto questa è la falla però sostanzialmente l'abbiamo risolta dopo un'altra cosa molto importante che gli holder stanno crescendo siamo 445 e come vedete il primo posto di balene ieri erano la metà no gli holders ho sbaglio eh sì erano proprio la metà un'altra cosa importante poi il bsc check che anche questo è stato un ulteriore strumento per verificare la sua sicurezza ci dice sembra sicuro che naturalmente nella vita niente è sicuro ok quindi partire da questo presupposto soprattutto nel mondo crypto nemmeno bitcoin è sicuro ok che la coin più sicura in assoluto e questo potete vedere anche diciamo comunque il creatore continua a tenere parte dei suoi token e infine andiamo a vedere come si acquista ve lo mostro direttamente che può essere interessante l'acquisto viene in questo modo allora voi dovete caricare dei binance coin su metamask poi inserite un importo ad esempio 0.01 mi raccomando la rete binance smart chain esatto quindi io vado tutti per inserire 3 dollari slippage del 10% faccio swap conferma qua a destra mi dà la transazione faccio conferma ed ho acquistato close ed ho acquistato così funziona ora acquistato i immortality se volete venderli procedimento opposto quindi inserirete un numero ad esempio 1 1 1 1 ok corrispettivo in binance swap stessa cosa quindi un po' così diciamo che funziona ecco mi ha confermato la vendita ok per cui saveria se hai altre domande dimmi pure allora Samu ne avrei un'altra dove pensi possa arrivare questa questa cripto cosa stai facendo a livello di marketing ho capito che vorresti fare anche il sito della allora stiamo già lavorando al sito ok ho investito vi dico la verità 200 dollari per sito e non solo a livello di marketing stiamo cercando che di chiamare di influencer naturalmente per sostenere la coina in questo momento vedete stiamo viaggiando molto ma molto bene e chissà ok che magari un giorno non ci listiamo il primo passo sarebbe su coin gecko quindi vogliamo listarci perché possiamo avere il sito e abbiamo il contratto e magari più avanti chissà che qualche exchange non ci accetti quindi non solo pancake non lo sappiamo veramente non lo so ragazzi ho preso questa coin e vorrei fare tipo come acquagot l'ho presa l'ho adottata e vedremo che cosa succederà ti stai molando per la causa praticamente sì sì no mi piace perché è una roba mi dà adrenalina spero stanotte di dormire ci stiamo divertendo anche un pochino noi dobbiamo dire la verità sì sì mai che vada ci abbiamo provato sì ragazzi mi raccomando c'è nel senso in questo momento dietro non c'è alcun progetto potrebbe scammare quindi mi raccomando io non voglio essere ripetitiva però lo facciamo per proteggervi tutto qui ok per cui penso che abbia andato per oggi va bene io direi che ovviamente cercheremo di aggiornarvi il più possibile su questa coin magari cercheremo di fare un po più di video relativi ai vari sviluppi e niente samu ci lasciamo così ok ciao a tutti ciao saveria ciao samu grazie per essere stato qui mi raccomando andate a seguire samu e niente ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao ragazzi